Abbiamo bloccato i potentati, siamo una città libera, così Mino Cannito, sindaco di Barletta, ha la sua prima dichiarazione dopo l'esito del ballottaggio. Sentiamo. È un momento storico per la città di Barletta che ferma lo strapotere di alcuni. Ci siamo liberati di un potentato politico. Barletta oggi è una città libera, è il commento a caldo del nuovo primo cittadino Cosimo Cannito. E la vittoria dei cittadini di Barletta ha aggiunto che hanno capito il momento storico nel quale bisognava dire basta a questo strapotere che per anni ha governato la città a proprio piacimento. Ci davano per sconfitti ed invece abbiamo lavorato con pazienza e umiltà, replicando anche alle tante umiliazioni ricevute. Sinceramente non pensavo di poter raggiungere una vittoria di tal fatta, ma è evidente che questo segnale forte sia arrivato da una città stanca del recente passato. Delusione invece nel centrosinistra. Questi dati impongono subito delle riflessioni in seno alla coalizione del centrosinistra, ha detto a caldo Santa Scommegna. Mi sono spesa tanto in prima persona, ma evidentemente questo non è bastato. Sapevo che come centrosinistra partivamo da una situazione cittadina molto difficile. L'apparentamento con la coalizione di Doronso ha cercato di compattare l'area, ma anche questo non è servito. Auspico che il governo Cannito possa portare in città molta più serenità rispetto al clima visto in campagna elettorale.